Si respira ancora aria di ricorsi elettorali a diamante. A meno di un mese dalle elezioni che hanno confermato Ernesto Magorno e compagni alla guida del Paese, potrebbe arrivare a giorni un nuovo tentativo di mettere in dubbio l'esito delle urne. Ovviamente sarebbero i componenti della lista Il Volo, gruppo escluso dalla competizione a seguito di irregolarità formali in fase di presentazione della lista, ad aver preparato un nuovo appello. Come si ricorderà, a ridosso della decisione della Commissione elettorale, Caselli e compagni avevano prontamente chiesto al Tarprime e al Consiglio di Stato poi di esprimersi sulla vicenda. Nel giro di pochi giorni le decisioni, entrambe avverse per il volo, che hanno spianato la strada da riconferma di Magorno in una competizione a due senza storia contro la lista Cambiamenti di Marcello Pascale. Il nuovo ricorso che gli esclusi starebbero preparando riguarda gli atti che le altre liste hanno consegnato in fase di presentazione, nonché quelli della Commissione relativi all'esclusione della propria lista. In pratica quelli del volo starebbero puntando all'individuazione di vizi formali anche nella presentazione delle altre liste, oltre che negli atti emessi dalla Commissione elettorale. Un percorso che, qualora dovesse essere avviato, richiederebbe tempi più lunghi sia al Tar che al Consiglio di Stato. Le conseguenze di un esito favorevole per i ricorrenti potrebbero portare all'annullamento delle elezioni e ad una nuova chiamata alle urne. Si tratta per il momento solo di ipotesi che però già serpeggiavano all'indomani della vittoria di Magorno.